Buonasera, buonasera a tutti, la Juventus è in Champions League! Ho aspettato la sera per vedere come andavano tutte le partite della giornata, appena finita Roma-Bologna 0-0, il Bologna ha fermato un'altra squadra importante, Bologna in forma e col più 10 la Juventus ha tre giornate dalla fine, aritmeticamente quarta, onde per cui adesso abbiamo solo da dedicarci alla finale Coppa Italia contro l'Inter, io per le prossime tre domeniche mi prendo le giornate libere se mia moglie sarà a casa da lavorare per andare a fare dei giri, la sofferenza di oggi è stata indescrivibile perché è uno schifo, io rimango dalla mia idea ragazzi, io ti fai Juve, ti farò Juve finché muoio, eh sì finché vivo, scusate ma sono un po' stanco, finché vivo ma non ho il prosciutto davanti agli occhi. La Juve anche oggi è stata terribile da vedere, a parte i gol non ricordo i tiri che hanno impensierito il portiere del Venezia, io penso che, allora faccio un lode oggi a quei giocatori ancora che hanno voglia di sudare per questa maglia, i Bonucci a 35 anni e non per la doppietta, i De Ligt, i Danilo, i Rabiot, oggi Rabiot ha fatto una bella partita, almeno, almeno correre, cioè corre, almeno lui ci prova ragazzi, rimane per me un giocatore medio-scarso, ma non gli posso imputare la voglia che non abbia da, di metterci in campo per cercare di aiutare la squadra. Oggi faccio un plauso a Miretti, so che la partita col Venezia può, non può essere un banco di prova, ma speriamo che sia un trampolino di lancio per il futuro, ha giocato con personalità, prima da titolare in Serie A, è un 2003, dunque speriamo che sia il buon aspiccio per il futuro, speriamo che Mister Allegri gli permetta di giocare tutte le ultime tre partite di campionato, a lui e a degli altri, e poi ho finito di farle lodi, poi ho veramente finito di farle lodi ragazzi, ah no, Luca Pellegrini, Luca Pellegrini, vabbè Shesny non lo conto perché, però, ecco, cavati questi 5-6, davanti Vlaovic, Morata, impalpabili, Bernardeschi, non lo voglio neanche di commentarlo, sembravano svagati, svogliati, vabbè, su Vlaovic sapete già come la penso, ha bisogno di gente che lo serva, gioca con questa gente, con questo modo di giocare, gioca costantemente, spalla la porta. Niente, speriamo che il mister cominci a guardare quelli che servono per l'anno prossimo, quelli che non servono, i giovani che possono servire, adesso ha tre partiti di campionato che non servono a niente, che devono aiutare a preparare bene la fine Coppa Italia e a fare un punto per la stagione prossima. Speriamo di non sopportare un'altra stagione del genere ragazzi, perché è stata straziante e ricordatevi che questo quarto posto è figlio delle mancanze degli altri, cioè non c'erano squadre che potevano competere con la Juve per arrivare a quarta. La Lazio è una mezza squadra, la Roma è una squadra, la Fiorentina ha fatto un bel campionato ma più di tanto non poteva, poi ha perso Vlaovic a gennaio, l'Atalanta è scoppiata, dunque diciamo che siamo arrivati quarti perché gli altri hanno smesso di correre, questo rimane il mio punto di vista. Comunque è stato raggiunto l'obiettivo minimissimo, che era il quarto posto, speriamo di chiudere la stagione bene con la finale di Coppa. Dico già che se anche dovesse arrivare la Coppa Italia più di un 6 e i 6 più non darei a questa stagione, anche per il poco gioco espresso, il pochissimo gioco espresso, qualche partita qua e là ma niente di più. Mi è stata fatta una domanda, andreste avanti con Allegri? Sì, perché non si può tutti gli anni ripartire da zero. Spero che il mister abbia capito gli errori che ha commesso quest'anno e che questi errori li abbia messi bene, memorizzati bene nella sua testa e che lo aiutino a non commettere l'anno prossimo. Io penso che i due giocatori più forti che ha la Juve davanti siano Vlaovic e Chiesa e questo imponga la società scusi all'anatore di giocare con il 4-3-3. So che Chiesa non lo rischieranno e prima dei primi di ottobre faremo fatica a vederlo in campo. So che la società si muove per comprare degli esterni dicendo campisti e c'è la caccia al terzino sinistro. Dunque, speriamo che riesca. Basta giocatori ibridi, giocatori alla Kuluzeski, alla Dibala, giocatori che non hanno un ruolo ben definito negli schemi di Allegri ma che non avevano un ruolo ben definito neanche negli schemi di Sarri e di Pirlo perché non avevano ruole. Ci servono delle ali, compriamo delle ali, non cerchiamo di adattare i giocatori a fare delle ali. Ripeto, speriamo che gli errori di quest'anno aiutino e siano memorizzati bene nella testa di chi deve fare mercato e di chi deve mettere giù la squadra per l'anno prossimo. Piccola parentesi, chiedo al mister di non fare più giocare a Alexandro, di non far più giocare Dibala e di non far più giocare Bernardeschi, giocatori che si vede che non hanno più voglia di giocare con questa maglia, che scendono in campo perché sennò dovrebbero pagare una multa e perché sennò dovrebbero rinunciare a una parte del loro stipendio. Mister, non li faccia più giocare, li guardi dritto negli occhi, faccia all'uomo e gli dica guardate, state dimostrando di non avere attaccamento a niente, state dimostrando di essere dei mercenari, state dimostrando di non avere più voglia, voi vi allenate perché siete pagati e poi andate la domenica in tribuna, ma andate in tribuna, non a casa, in tribuna, perché hanno rotti i coglioni, tutti e tre. Oggi sono, Bernardeschi è entrato in campo con quella voglia di fare, c'era anche un rigore su di lui, però tanto a noi quei rigori non ce li danno, poi lasciano stare tutti i commenti perché quando c'è da fare, è vero che dopo c'era probabilmente l'espulsione di Zaccaria perché per me è stato un brutto fallo però, se mi dai rigore vado 2-0 può darsi che la porto a casa lo stesso. Comunque vabbè, ho detto che non parlo di arbitri e basta, anche perché ce ne sarebbe da dire oggi, ho visto altre partite ma vabbè, lasciamo stare. Niente, la stagione è finita così, ragazzi, il campionato è finito così, per fortuna siamo arrivati i quarti e niente, ormai, tanto quello che c'era da dire su giocatori, ruoli, niente, speriamo di riuscire a partire da qui. Apriamo una piccola parentesi sulla volata Scudetto, hanno già vinto tutte e due, il Milan e l'Udinese, non mi interessa il modo in cui hanno vinto, non mi interessa tutto quello che c'è scritto su internet, regali, regalini, regaloni, non me ne frega niente. La volata dice che a tre giornate alla fine il Milan ha due punti di vantaggio sull'Inter, che sono poi tre, perché, scusate, ma c'è un misto di tosse e di sbadigli, perché l'arrivo a pari punti premerebbe il Milan. Domenica c'è un turno per me molto importante, che è Verona-Milan e Inter-Empoli, ma più che altro per il Milan, perché il Milan, purtroppo, è che i tifosi del Milan si tocchino, facciano le corne. Tutti gli anni che il Milan si gioca con lo Scudetto, la fatal Verona è sempre segnata, dunque il Milan deve superare questo scoglio. Sono quasi convinto al 90% che se il Milan dovesse vincere Verona sarà campione d'Italia, perché le ultime due contro l'Atalanta e Sassuolo non dovrebbero essere sulla carta. Partite insidiose, nonostante quel centimilità l'Atalanta, si gioca l'Euro, no l'Atalanta per me non c'è, il Sassuolo vi ha dimostrato l'altra sera con il Napoli che appena trova una squadra che ha più motivazioni ci passeggia sopra. Dunque, niente, aspettiamo questa piccola volata Scudetto e niente ragazzi. Vi auguro a tutti un buon inizio settimana e alla prossima martedì, mercoledì per la Champions. Ah, piccola parentesi, finalmente, finalmente ho già vinto una Ducati. Ciao belli! Ciao belli!